Un nostro signoriero, un po' per me Le politiche giovani, allora io capisco che un giovane deve occuparsi di politica Dicevo a Ciecovi, una persona deve occuparsi di politica, pertanto che basta per stare lontano da essa, però non ci riesce, tu non... Le politiche sono valibili, ho le pari opportunità. Spero bene che siano pari le opportunità. Se bisogna mettere uno che è un ministro delle pari opportunità, ma perché ci sono anche dispari opportunità? Ma è una roba pazzesca, è come il fatto di dire, se non ti metti il casco ti faccio la multa, ma dovrai capirla, solo che se è caro quel motore mi spacco il cranio, bisogna fare una legge, altrimenti noi ci mettiamo il ca... È una roba pazzesca, è una roba pazzesca. Comunque dai, diamo una svolta seria questa cosa. Ho detto due pari... No, non troppo... No, noi, come l'osteria, non vogliamo parlare di cose serie, ma anche divertirci un po', possibilmente anche divertire anche voi, perché viviamo un mondo strano. No, ma è bello che tutti i posti riservati sono buoni. perché è una roba pazzesca, è una roba pazzesca. Risservato, riservato nel mondo. Allora io mi devo capire che almeno quando è vuota, è un posto riservato. No, davvero, guarda, è paradossale. Chi c'è un sindaco? Grato, Grato, riservato, riservato. E questo è vero, che gli organizzatori hanno riservato qualcosa a qualcuno che non c'è riservato. Come quello che diceva... Diceva quello sulla sala troppo... così piena... No, era il maestro di Borre, no. Comunque io non vedo in fondo lì, perché mi hanno... mi hanno deciso di stendermi con quel faro lì. Io vorrei invece che accendessero lì per vederli in faccia, per chiacchierare. No, io non posso stare qui. Come una zanzara infilzata dallo spillo sul contenitore. Io vorrei vederli, quindi... Mi pare che c'è un sacco di gente anche... E noi non meritiamo... Vuota l'ultima fila del riservato. Ma non c'è più di fondo lì. No, allora siamo orgogliosi con Maieronca, vuoto anche il mio amico qui, Vittorio, che ha la casa a Erto. Ha sistemato la vecchia casa di Erto. Ma non so... Che cosa buttavate via? Anche nella... Ma no, non c'era... Allora io non voglio fare la retorica di allora, si stava bene, per carità, però io ho avuto un problema, sono caduto a dieci anni da una parete di roccia, mi ero spaccato il ginocchio. E mio nono mi pisciò per disinfettarmi. Ma beveva, mi hai iberenato, no, disinfettarsi. Un anno, un anno, un anno. Sempre che ho oggi con tre antibiotici, Sarpa ha risolto tutto, io avevo dici anni, quindi nel sessanta, prima del baionico. E per un anno non riuscivo a parire, sempre facevo apposta cosa, allora mia nonna acqua e sale, oggi sera con l'acqua e sale, mi grattava. Le gazze, per dire, è chiaro che oggi si deve puntare soprattutto all'igiene, ma se non sono morto è la prova che l'igiene è leggera, perché quando fai bollire le robe, le sterilizzi, le sirinche, le vecchie... e poi queste gazze le faceva bollire, le sterilizzava, e poi le asciugava al sole, o all'aria, e poi mi ricordo, io le tenevo tirate e le arrotolava, faceva tutti i rullini di gazze. un giornale, quando c'era, lo mettevano via per accendere il tuo, lo spago tutto, un tappo di... a parte che... e si videva, eh, se sono qui, vuol dire che siamo sopravvissuti, senza mai pigliare nulla. Chiaro che oggi abbiamo perso anticorpi, ogni sega che ci capita, avanti i medici, il corpo non si difende più, non crea le difese, non crea le anticorpi, quindi siamo prete di difese. Poi c'è il tuo collega, come si chiama lì, che ha picchiato, mi hanno detto, povera... Emilio Fede, che la gente non si approcciasse, non c'era, non si buttava via, e non c'era, andavi a prendere la conserva, no? I due leoni, qualcuno che ha qualche... tac, lì se la ricorda la cosa, ti brilava con un mestolino, tac, una carta lucida, la conserva, la pigavi due leoni al suo, e non era che mancasse di gente, diciamocelo chiaro, oggi, anche per andare a letto, devi dissigilare il letto, che vieni coperto di cellofano, io avrò, una sera ho coperto mia moglie, con il cellofano, fortuna che lo disse per l'ità, stava gonfiandosi, ma insomma, non dico di, io non sono per carità un esaltatore di quei temi, però c'era parsimonia, si metteva via le robe, oggi, 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 oggi giornale, 40, 50 televisori al giorno, in un centro delle cose, perché adesso arriva il, come si chiama lì, il saggio digitale, invece che comprare il decoro, via, rotta mare, rotta mare, ma va bene anche, ma no, il tempo non, c'era tutta quella immorazione, veramente, c'erano anche, chiaramente, dei problemi igienici, la carta igienica, dopo la motosega, la più grande emozione del secolo, solo che, l'hanno ridotta, perché tutto viene, ha passato al livello dell'amore, no, tutto diventa amore, questa pirata, un amore del coro, la carta igienica, un amore di trama, cioè, quella parolina amore, che dovrebbe essere subito, addirittura, è una carta igienica, però quella serve, dai, ma quella è anche, il resto è superfluo, abbiamo una, una colossale, l'invasione di, 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 di carta, di cose, tutto, produce immondizie, produce scarto, e quindi sta a tutti noi, anche la differenziata, vabbè, io cerco di fare la differenziata, lassù, ma poi arriva il camion, poi putta tutto nel bacone, che va a vivere, non abbiamo voglia, abbiamo un nichilissimo dell'esistenza, abbiamo capito che si vive poco, anche se dovessimo vivere 90 anni, è sempre poco, perché siamo degli egoisti della sopravvivenza, abbiamo capito che si vive poco, è male anche, e la vita è anche, è anche dolorosa, soprattutto, è dolorosa, è incredibilmente, è, è, angosciante, perché non sai, e allora uno dice, ecco il nichilismo dell'esistenza, tutto nasce da lì, che, che ve ne dicano, preti, frati, ordini di risolsi, papi, e, intellettuali, che sono la peggiorisma, io ho ancora fiducia di un prete, a volte, dico guardi, mi aiuti a dire, perché ho questo di filmare, gli intellettuali, a cosa servono, e, viviamo nell'Italia dei, dei mestieri fulvi, l'opinionista, ma me ne frega un cazzo, la tua opinione, l'opinione, i critici, i critici letterali, la peggiorgia mia, se non li hai a favore, se li hai a favore, devo parlare bene, ma, purtroppo, i critici gastronomici, i critici televisivi, ma vi rendete conto, uno, paga, prende 8-9 mila euro, per guardare la tv, e dice, quel programma non mi piace, Saviano non mi piace, Ballarò non mi piace, sui giornali più famosi d'Italia, forse il primo, lo pagano, perché quello non mi piace, non mi piace a te, ma chi sei tu, che devi dire, non mi piace, oppure per la coletta verde, la coletta verde, a Lignano il mare, a Infinato, nessuno va più a Lignano, perché siamo indottrinati, dai mezzi, pubbili, dai maximi, come schiavi, Capozzo dice, guardate che Aerto, Aerto si respironava, mefiti, mefiti, come si dice, e siete tutti moriti, la pretemma di pace, di avere nessuno, che ha più a Aerto, ma direi, l'anno scorso, ci hanno pigliato, i diottorupinati, con 30 milioni di vaccini, perché era l'influenza, e abbiamo paura, risicchiatà, ma si chiamano spesso, niente, a tutti qua, era una bufala, pensate, oppure, il critico, io l'ho conosciuto, i critici gastronomici, perché non c'è anche un critico sessuale, che va a assaggiare, e non c'è anche un critico, non c'è anche un critico sessuale, senza, non prendete la sua, il critico, l'evento, il ristorante, dove eravamo prima, gli altri, che era il ristorante, la parentesi, arriva un tizio, un pintale 40, no, qui non si mangia, che scrive su Campero Rosso, perché vanno a Cambridge, perché vanno indietro, in Campero Rosso, Campero Rosso, Campero Rosso, lì non si mangia bene, allora è lì, ha detti ai lavori, no, fino a se non mangiamoli, che non si mangia bene, è pazzesco, ragionate con le vostre teste, per piacere, vi chiedo, per piacere, siate stare lì, ragionate con le vostre, se vi mangio bene, che me frega, cazzo, cosa hai detto tu, sono prezzolati, il mare di Lignano, è qui, nessuno va più a Lignano, al mare, perché la corretta, a verbo, l'età blu, chi non è inquinato, è assurdo. Alla questione, all'ubione del Veneto, ti ricordi le polemiche, sull'informazione che se ne è accorta, per aver seguito qualcosa? No, c'è stata un po' di amarezza, diciamo, no? Beh, insomma, l'amarezza, qui rischio di dire alcune cose, che possono ferire, o non, però, si muove una farfalla a Bangkok, e ai ai ai, qui, ma probabilmente, non c'è stata attenzione, in questa tragedia del Veneto, forse perché, l'Italia intera, e sarebbe un bene per noi, anzi, o lo è, forse così, i Veneti se la cavano, cioè, pare che da noi, che siamo forti, non piacciamo il morto, ce la caviamo la sopra, come i friulani del resto, quando c'è stato il terremoto, ricordate, lasciate il terremoto, facciamo i piedi soli, facciamo da soli, dateci una mano, e qui nel Veneto, veramente, e, dovrebbero aver vergognarsi, anche in mezzo, in mezzo di informazioni, da capire dopo una settimana, che c'era stata la tragedia, anche perché noi, non siamo quelli che, mi reputo Veneto, anche se sto sul confine del Friuli, sono a Erdo, Veneto, tra Veneto e Friuli, ma, non è il confine, che fa l'anima, e la totalità delle anime, bisogna darci una mano, però, insomma, noi non abbiamo detto nulla, non abbiamo sbraità, apore del Friuli, il nostro portino, occorre del Friuli, come va bene 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 Europe, come va bene bene United, come va bene bene allora, Grazie per la visione! Grazie a tutti!